Buongiorno ragazzi e ragazze come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Non so se vi ne siete accorti ma gli ultimi video che ho pubblicato qui li avevo registrati qualche giorno fa per cui è da parecchio tempo che non accendo la fotocamera del telefono. Arrivo oggi a riprendere in mano la situazione con i prodotti finiti del periodo. So che è un video che vi piace particolarmente, io lo amo, devo dirvi la verità, tra questo i profumi finiti che dovrò registrare prossimamente, non saprei proprio quale scegliere. Ne ho tantissimi perché io registro questi video qui bimestralmente ogni due mesi e non mensilmente. Per cui i prodotti ovviamente non sono solo questi nel cestino ma ne ho una quintalata anche nella poltrona dell'Ikea che ho qui dietro. Quindi io partirei subito, vi dico soltanto che sarà un video molto molto lungo perché a me piace argomentare, raccontare i prodotti con una certa curiosità, un certo interesse, un certo trasporto perché se no diventa una lista della spesa, questo sì, questo no, questo sì, questo no, mi fanno cagare a me i video così. Per cui procedo con molta calma e pazienza. Per cui chi è allergico ai video lunghi ci vediamo poi in un altro momento, anche se poi tutti i miei video sono abbastanza lunghi, perciò è il canale sbagliato per chi non ama i video lunghi. Vabbè, partiamo? Partiamo subito. Oggi la giornata è bellissima, quindi io con questa maglia avrò caldo. Mi sono già premunita con due sacchetti di plastica perché sono piena di roba finita, piena, piena, piena. Parto subito. Il primissimo prodotto che vi vado a raccontare me l'ha mandato un'azienda, quindi si tratta di una collaborazione. Il marchio lo conoscete tutti perché qui su YouTube è molto gettonato ed è il marchio Imim. Perfetto. L'azienda mi ha mandato questa crema per collo e décolleté che si presenta appunto come una crema idratante anti rughe per collo e décolleté. Allora, io ho 37 anni, devo ammettere, bisogna dire la verità, che in questo momento non ho né il collo rugoso e neanche il décolleté. Pertanto questa crema su di me non ha, cioè io non l'ho utilizzata con quella finalità lì. Perché l'azienda mi ha specificato e mi ha detto guarda puoi tranquillamente utilizzarla come crema per il corpo. E io così ho fatto. Quindi mi è arrivata praticamente subito, devo dire la verità, sono stati nella spedizione molto molto celeri, tanto che mi avevano detto arriva il 6 maggio e è arrivata il 5. Perfetto. Che era un venerdì se non sbaglio. E da quando me l'hanno mandata non ho fatto altro che utilizzarla. L'ho usata, ripeto, come crema per il corpo post doccia e devo dire che io mi sono trovata molto bene. È un barattolino da 50 ml nero in plastica e si presenta così. Ve lo faccio vedere, non ci sono residui, però c'è ancora lo sporco della crema perché non sono andata a pulire il vasetto, visto che poi lo butto, però forse prima di buttarlo devo un po' pulirlo meglio. Mi sono trovata molto bene, vi devo dire la verità, perché come crema idratante post doccia io non ho riscontrato alcun difetto. La mettevo sulle gambe, quindi cosce, polpacci, caviglie, piedi anche, e anche sulle braccia, qualche volta anche sui glutei. E mi sono trovata bene perché ho riscontrato un buon potere idratante, un ottimo tempo di assorbimento, quindi l'assorbimento molto molto veloce, un ottimo potere idratante, ma soprattutto la cosa che a me premeva di più e mi preoccupava anche era l'untuosità. Non c'è untuosità perché viene assorbito, il prodotto viene assorbito praticamente subito. Le gambe non mi sono mai diventate secche, aride, per cui è un prodotto che io mi sento di promuovere. Chiaramente è pensato per il collo e décolleté, per cui se avete magari il collo, come posso dire, grinzoso, rugoso, un termine più elegante, insomma il collo che è segnato particolarmente dall'età, sia il collo e il décolleté, io ve la consiglio, se avete bisogno di un idratante che faccia anche da antirughe. Se invece mi dite, ma ha avuto un effetto rassodante sulle mie gambe, assolutamente no, io sono piena di cellulite, cioè proprio ne ho un quantitativo bello importante, non è mai andato via assolutamente niente, ma che faccia andare via la cellulite, credo che non esista niente, quindi non è colpa della crema, ecco. Quindi che dirvi, l'ho trovata un'ottima crema, buon potere idratante, rapido assorbimento, zero untuosità. Se per caso la voleste ordinare, vi metto qui nell'info box il link, la trovate su Amazon e se inserite un codice avete il 20% di sconto. Questa cremina qui costa sui 20 euro, sono sempre 50 ml di prodotto, ve l'ho già detto, e il codice è questo, era un po' difficile da pronunciare, ok, quindi YH6EWMOP, 20% di sconto, perfetto, come bisogna fare? Si va su Amazon, si va sul prodotto, si mette dentro al carrello, quando si va a cliccare la modalità di pagamento, trovate un piccolo, come dire, una piccola striscia, dove c'è scritto, aggiungi un buono regalo, oppure codice promozionale, oppure voucher. Lì andate a inserire questo codice qui e automaticamente vi vengono scalati il 20% di sconto, che saranno su 20 euro di crema 4 euro, quindi l'andate a pagare sui 16 euro. Mi sento di consigliarvela perché mi sono trovata molto bene. Andiamo avanti, per cui questa, dopo devo pulirla bene. Ok, partiamo da tutti i prodotti che ho buttato malamente nella poltrona, quindi, ma ho solo questo di detersivo, ma figuriamoci, ne ho due. Detersivo lavatrice, no, non è vero, sì, è vero, quindi due detersivi per lavatrice, il primo è spuma di champagne pulito e tradizione freschezza alpina, 23 lavaggi, comprato da Ipershop per 2 euro in promozione. Mi sono trovata molto bene, il profumo di eucalipto si sente, ragazzi, io da quando ho ricevuto la delusione del profumo di olfattiva all'eucalipto, tutte le volte che leggo eucalipto sono un po' scettica, in realtà in questo detersivo si è fatto sentire, per cui lo promuovo. Andiamo avanti, altro prodotto per la lavatrice, sempre per il bucato, è del marchio Green Natural, e questo è al profumo di rosa. Mi sono trovata molto bene anche con questo, vi dirò, questo è un detersivo per lavatrice, ecobio, quindi anche in questo caso uno può essere scettico e dire, vabbè, un prodotto ecobio, chissà, in realtà lascia i capi molto puliti e molto profumati di rosa, e siccome ultimamente sto facendo pace con la nota olfattiva della rosa, mi sento di promuoverlo, in futuro potrei assolutamente ricomprarlo, come lo spuma di champagne, ok, tra l'altro lo spuma di champagne all'eucalipto ne ho un altro, perché l'avevo pagato talmente poco, scusate, talmente poco, che ne ho approfittato, dove l'appendo, niente, nel braccio me l'appendo, ok, andiamo avanti, ho terminato anche l'additivo igienizzante di omino bianco, l'avevo pagato anche questo poco, sui 2,20 euro da Ipersop, e mi sono trovata molto bene, tutte cose acquistate in promozione, tranne il detersivo quello lì della Green Natural, che è stato proprio un togliersi uno sfizio, un provare un detersivo diverso dal solito, ok, andiamo avanti, sempre per la pulizia della casa, nello specifico del bagno, abbiamo terminato il Mastro Lindo Bagno, che non voglio più nasconderlo, è il mio detersivo per il bagno preferito, cioè io con questo mi trovo veramente da dio, quando pulisco tutti i sanitari, non solo, quindi lavandino, bidet, water e vasca, oppure box doccia seconda, ma ci pulisco anche la lettiera di panchi, e mi porta via tutto, per cui è il mio detersivo per il bagno preferito, lo compro abbastanza spesso, perché abbastanza spesso costa un euro da Ipersop, in questo preciso momento devo andare a fare scorta, cioè nel senso devo comprarlo perché non ce l'ho, quindi in questo momento sto utilizzando uno sgrassatore per il bagno, ma non è il mio detersivo preferito, ci tengo a dirlo, quindi Mastro Lindo Bagno economico, ma veramente efficace, e poi lascia un profumo veramente fresco, proprio di pulito, quando lavate il bagno, i sanitari con lui, si sente un casino, andiamo avanti, ma avevo solo queste quattro pose, fuori dalla poltrona, no no c'è ancora un sacco di roba, un attimo, ok allora passiamo per i detersivi, detergenti per le mani, abbiamo questo qui del Cry Pharma, ve lo ho anche inserito nei preferiti, perché è un sapone liquido disinfettante, quindi questo potrebbe tranquillamente andare bene, nello studio di un dentista per dire, disinfettante, quindi pensato per eliminare il 98-99% dei batteri, la cosa ottima di questo sapore liquido, è che è pieno pieno di glicerina, per cui più ti lavi le mani, e più le mani rimangono morbide, e tu dici mi lavo con un disinfettante, mi screpolerà le mani, no, rimangono morbidissime, perché è pieno pieno di glicerina, l'unica cosa è che fa poca schiuma, per cui se siete dipendenti dai detergenti schiumogeni, attenzione, forse potrebbe non soddisfarvi, costa 1,69 euro, lo trovate al Crai, sapone liquido che ho amato, e che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video, è il sapone liquido del giardiniere, del marchio Green Paradise, questo sapone liquido ha una profumazione super, iper, mega, meravigliosa, sa proprio di sfalci, sa odora di guanti di un giardiniere, guanti di un ortolano, di una persona che lavora la terra, che lavora le piante, i frutti, la verdura, quindi proprio l'erba, il prato, sa proprio di sfalci, ed è stupendo, meraviglioso, trovo sia un sapone liquido evocativo, veramente buono, mi è piaciuto tantissimo, ovviamente l'ho ritrovato? no, su internet si trova soltanto il panetto solido, che però a me non interessa, perché panetti solidi, saponette solide, ne ho diversi, e voglio smaltire quelli, perché poi mi voglio di nuovo dedicare ai saponi liquidi, e questo trovarlo è un miracolo, boh, costa 9,90€, per cui non costa neanche poco, ma io da Viridea, che è un vivaio qui in provincia di Torino, l'ho pagato 4,95€, l'ha pagato Simone perché me l'aveva regalato lui, buonissimo, buonissimo, mi piace anche il pack, mi piace, molto buono, ve lo consiglio, se amate i profumi di erba bagnata, prato, queste profumazioni, verdi, di un'altra volta verdi, verdi, andiamo avanti, in questo video vi darò molto le stalle, no, perché vado a mettere, dove me lo metto il cosmo, me lo potrei mettere anche addosso, va bene, ok, però ho ancora un sacco di roba, allora, andiamo con un prodotto, abbastanza importante, allora, lo sapete che io in questo periodo, ho utilizzato, mi è stato regalato per Pasqua, shampoo e maschera della Kerastase, il primo che ho terminato, è la maschera, si trattava di un prodotto, in, in, formulato in crema gel, da 200 ml, un prodotto estremamente caro, che però ragazzi, è un prodotto, che se lo confrontate, se fate un paragone, con i prodotti commerciali, della grande distribuzione, la differenza è, abissale, mi spiace dirlo, allora, questa è una maschera, per capelli, grassi, che hanno le radici, untuose, quindi oleose, e le punte dei capelli, secche, quindi aride, perfetto, direi che è abbastanza appropriato, alla mia capigliatura, folta, che tengo, al di là di questo, vi devo dire, che, mi è piaciuto particolarmente, utilizzare questa maschera, farci degli impacchi, si usa proprio così, si fanno degli impacchi, di 5 minuti, non è poco, quindi un prodotto, che se lo comprate, dovete avere il tempo, da dedicargli, perché dovete tenerlo in posa, 5 minuti, dopo questi 5 minuti, risciacquate la capigliatura, tamponate con l'asciugamano, togliete l'asciugamano, con il residuo di acqua, andate a pettinare i capelli, e non c'è neanche un nodo, neanche uno, cioè zero nodi, è un prodotto, che vi permette, di districare i capelli, anche quelli più ostici, chiaramente, mi riferisco a capelli, lisci, mossi, se parliamo di ricci, afro, eccetera, non so nulla, non me ne intendo, poi io ho anche 4 capelli, però purtroppo, quei 4 si annodano molto, per cui vi serve un prodotto, iper districante, e questo, devo dire, che svolge, egregiamente questo lavoro, per quanto riguarda, la lucidità, sì, dipende dalle volte, perché sapete, che l'aspetto dei nostri capelli, comunque, è influenzato, da tutta una serie di fattori, tra cui anche la cattiveria, mi è stato detto, può anche essere, non lo so, e sono influenzati, da vari fattori, per cui a volte, risultano essere, più lucidi, meno lucidi, più belli, meno belli, più secchi, eccetera, eccetera, quello che posso dire, di questa maschera, è che è veramente, l'unico prodotto, mai provato, che sa districare, una capigliatura difficile, perché io ho pochi capelli, ripeto, molto, molto, annodati su se stessi, e questa, devo dire, mi ha saldato, tutti i dopo shampoo con lei, ero sicura, che quando andavo a pettinare, non mi cadevano capelli, perché non erano annodati, quindi, al bacio, purtroppo è carissima, perché questi 200 ml, costano 27, 28 euro, non costa poco, non la ricomprerò, perché non è il mio budget, però è un ottimo prodotto, che dire, cioè, quando un prodotto è scarso, bisogna dirlo, quando il prodotto è buono, bisogna dirlo, qualcuno dirà, ma 200 ml, come hai fatto a finirla? Ragazzi, io lavo i capelli, un giorno sì, un giorno no, qualche volta, anche tutti i giorni, e quindi, è facile finirla una crema, poi, profumo meraviglioso, quasi, floreale, ma verde, quindi ottimo, e formulata in crema gel, quindi, non una crema, tipo burro, ma una crema, da una consistenza leggera, quindi, zero untuosità, anche in questo caso, promossissima, vedete un po' voi, quanto volete investire, se avete tanti capelli, problematici, ma anche se ne avete pochi, scusate, tanti o pochi capelli, problematici, lei potrebbe fare per voi, andiamo avanti, poi, Simone ha terminato, questo cleansing gel, che si può usare, sia per il viso, che per il corpo, quindi, è uno di quei classici prodotti, tutto in uno, quindi, faccia, corpo e capelli, il marchio, e panier de sance, è stato regalato, a Simone, da Francesco, il nostro amico, parigino, si tratta di, se non sbaglio, 200 ml, non vedo neanche, sì, 200 ml, di prodotto, e so che Simone, si è trovato molto bene, lo usava proprio per viso, collo, ascelle, al mattino, quando faceva il classico, lavaggio a pezzi, non l'ha mai utilizzato, per i capelli, e neanche proprio sotto la doccia, quindi, lavaggio a pezzi, ok, si è trovato bene, andiamo avanti, sì, andiamo avanti, con qualche bagnoschiuma, ma sì, questi due, ve li ho inseriti, nei top, perché sono due, bagnoschiuma top, ma va, questa frase, come uscita, non lo so, allora, parliamo, delle petit marseillée, alla profumazione, anguria e basilico, ragazzi, la profumazione, di questo gel doccia, è paradisiaca, non vi sto a descrivere, la consistenza, perché è perfetta, non è né liquido, né troppo denso, per cui è ottimo, è trasparente, vi profuma tutto il box doccia, vi profuma la pelle, dà buone vibrazioni, ed è eccezionale, anguria e basilico, è la combo che non ti aspetti, ma è una favola, mamma mia, buoni, io se ci fosse il profumo, delle petit marseillée, anguria e basilico, lo comprerei all'istante, adesso stai, adesso vedrai che nei commenti, mi mandano il link, che mi fanno fare l'acquisto, no veramente, lo comprerei, perché è veramente eccezionale, altro bagnoschiuma, che ho inserito nei preferiti, è questo qui, del marchio Giovanna, marchio, scusatemi, aspettate che guardo bene, marchio polacco, quindi si tratta di un bagnoschiuma polacco, preso su make up.it, pagato 4 euro, profumato di pan speziato, pan di zenzero, omino di pan di zenzero, molto molto buono, questo si presentava invece in crema, quindi una buona crema scioglievole, sembrava di aver sciolto dei lindor, ecco, di lavarsi con dei lindor sciolti, però ovviamente molto speziati, qui la connotazione speziata è maggiore, rispetto alla connotazione gourmand, quindi vedete un po' voi, dimenticavo di dire che le petit marseillée, e questo qui, sono acquistati su make up.it, quello lì pagato 3 euro, e questo 4, ottimi prodotti davvero, ci siamo trovati ultra bene, andiamo avanti. Allora, Breeze Black Oud, nuova uscita in casa Breeze, allora, profumazione veramente eccezionale, si sente l'oud, si sente il legno di agar? Assolutamente sì, secondo me lo hanno pensato un po', come profumo, l'avevo già detto, la fragranza l'hanno un po' pensata per il pubblico maschile, perché la trovo un po' legnosa, cortecciosa, un po' coriacea, un po' amarognola, e poi si sente proprio questo, questo legno di agar, questo oud, preponderante. Però vi dirò una cosa, la profumazione è eccezionale, mi piace, lo promuovo, ma sotto le mie ascellazze, non funziona bene, come il Breeze, quello lì, il mio preferito ormai lo sapete, quello lì color beige, quindi il Breeze 67 Classic, che è il mio preferito di sempre, questo non funziona come lui, cioè è capitato a volte di sentire un leggerissimo odore di ascella, e non so se lo vado a ricomprare, perché se il Breeze beige, posso avere il ciclo, possono esserci 37 gradi, posso fare sport, posso fare il salto mortale carpiato, qui non puzzo mai di sudore, ma mai, e col Breeze quello lì beige, mai, mai, mai successo, mai accaduto, con lui invece sì, mi è capitato di puzzare leggermente di sudore, e non è che mi piaccia proprio tanto l'idea, per cui non credo che lo ricomprerò, peccato perché la profumazione è veramente buona, quindi, boh, c'è, o devono aggiungere dei sali d'alluminio, o non lo so, però c'è qualcosa che non va, andiamo avanti, sempre con i deodoranti, ragazzi, il malizia brivido, io ormai lo consiglio qui sul mio canale, da quanti anni, non mi viene più in mente, da un secolo, è un deodorante speciale, per me, perché è legato a un ricordo affettivo, però a livello di performance, è pazzesco, nel senso che anche questo, un po' come il Breeze 67 classico, quello beige, non ti molla mai, cioè non puzzate mai di ascella e di sudore, è veramente un deodorante così potente, che lo potreste utilizzare come profumo, ha un bouquet molto ricco, se non sbaglio c'è l'ilang y'ilang, il gelsomino, il fiore d'arancio, cioè insomma ragazzi qua c'è un sacco di roba, c'è anche il mughetto, e si sente tutto, è un bouquet molto carnoso, quindi molto opulento, secondo me si sente un po' che è nato nei primi del 2000, il brivido, o forse anche a fine anni 90, però rimane eccezionale, cioè veramente, allora della malizia c'è un deodorante che si chiama certezza, secondo me hanno sbagliato, questo si doveva chiamare certezza, perché è proprio la certezza, quando ti spruzzi lui, non ce n'è neanche più niente proprio, non puzzerai mai, mai e poi mai, altro deodorante provato in questo periodo, provato, utilizzato in questo periodo, lo avevo preso al gigante, perché costava 90 centesimi, per cui pensate che genio che sono, ne ho presi tre, bravissima, peccato che non mi è piaciuto per niente, si tratta del Delice, marchio Delice, profumazione, invito e muschio bianco, allora, non sono fan del muschio bianco, lo sapete benissimo se seguite i miei video da tempo, però ho detto, posso fare un'eccezione, non è che se una volta all'anno o due, mi compro un deodorante al muschio bianco, succede qualcosa, può anche succedere di cambiare idea, giusto? Perfetto. Il problema è che non tiene, innanzitutto non tiene, quindi l'esatto opposto del malizia brivido, del breeze 67, non tiene, per cui anche con questo, una leggera, poi io indico sempre qui, perché ho l'ascella destra che è bastarda, la sinistra niente, e la destra che mi fotte, non tiene, e poi la profumazione di muschio bianco, e non sembra muschio bianco, cioè sembra anche qui una roba un po' floreale, giante, boh, non mi è piaciuto, posso dire, può essere utilizzato come deodorante economico, da tenere nel proprio armadietto, tenere nel proprio beauty case, quando si finisce la giornata lavorativa, del tragitto da lì a casa, ci si dà una spruzzata, magari devi andare a fare la spesa, e ti rinfreschi un po', però da mettere sotto le ascelle, per starci tutto il giorno, no, non so se dipende dalla profumazione, ne ho presi altre due, mi sembra che ho preso quello all'orchidea, e poi ne ho preso un altro, non mi ricordo, alla violetta, alla lavanda, non mi ricordo, uno viola e uno rosa, vediamo come sono, non voglio pronunciarmi su di loro, su di lui, no, cioè su di lui no, nel senso che mi son pronunciata e non va bene, ragazzi, qua bisogna specificare tutto, perché poi succedono cose, allora, abbiamo terminato anche una saponetta solida, no, credo più di una, però, per il momento tiro fuori questa, è del marchio Carrefour, si chiama Soft, ed è una imitazione della saponetta di Dove, Dove è la saponetta che conoscete tutti, quella che ha un quarto di crema idratante, è molto cremosa, che se la usano le persone con la pelle grassa, è finita a bacchia, ok, questa imitazione qui del Carrefour, io l'ho acquistata mentone, perché? Non lo so, non lo so, sta di fatto che con questa sono riuscita a lavarmi il viso, perché, anche se qui ti dice che c'è un quarto di crema idratante, mi sembra di sì, no, sì, un quarto di crema idratante, c'è proprio scritto, ok, non l'ho trovata particolarmente untuosa, particolarmente grassa, cioè non mi faceva uscire chissà quanto grasso dal volto, per cui mi sono trovata bene, ne avevo comprate quattro, ne ho regalate un paio, o ne ho regalate tre, ora non mi ricordo, quindi forse dovrei averne ancora una, comunque mi sento di consigliarla, panetto da 100 grammi, quattro saponette, pagate due euro veramente poco, se non anche di meno, profumazione, somigliante a DAV, più o meno, DAV forse profuma di più di crema, però questa è meno grassa, quindi vedete un po' voi, ok, mi sono resa conto che ho lasciato un prodotto nel bagno, quindi devo poi stoppare, quando finisco il cestino che è ancora pieno, per cui oggi stiamo insieme un sacco di tempo, poveri voi, abbiamo terminato questo bagno schiuma da 400 ml, del marchio Replay, si chiama Thank, me l'aveva mandato Serena, ciao Serena, in quel mega pacco, dove mi ha mandato prodotti di Bat & Body Works, campioncini eccetera, mi ha mandato anche lui, la profumazione è molto dolce, e sembrerebbe un bagno schiuma a metà, tra il floreale e il vanigliato, la profumazione restava, mi ricordo, molto bene sul corpo, per cui buonissimo, devo dire che sprigionava anche abbastanza nell'ambiente bagnifero, per cui vi sento di consigliarvelo, certo sono 400 ml, non proprio il formato adatto a chi ama cambiare spesso, su questo siamo d'accordo, però l'ho trovato veramente un buon prodotto, so che è piaciuto tanto anche a Simone, che è mio marito, 400 ml prodotto, tank di Replay, floreale vanigliato, con una presenza dolce importante, buono, ci è piaciuto, andiamo avanti, due confezioni, due, sembrerebbero due, confezioni di salviette, le prime sono della V5, sono al limone, per fare una pulizia dei pavimenti, molto superficiale, non approfondita, perfetto, ci siamo trovati bene? preferisco quelli di MD, non mi fanno proprio impazzire, non le trovo proprio, super efficaci, però sono sempre salviette, se vuoi l'efficacia, usa il detersivo, grazie Graziella, poi queste salviette qui, Blue Wonder, erano 80, ed erano salviette, se non sbaglio, igienizzanti, acquistate da Action, pagate 99 centesimi, per cui uno dice, 80 salviette, 99 centesimi, è un grande affare, sì, problema opposto, queste erano intrise, avete presente quelle salviette, quando le tiri su, fanno la schiuma, sono troppo piene, 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 piene di schiuma, ok, la salvietta deve essere ben imbevuta, ben bagnata, per essere efficace, se no diventa inutile, però quando è intrisa, proprio, cioè piena di schiuma, e non lo so, secondo me non va bene, né troppo, né troppo poco, per cui, non mi hanno fatto impazzire, utilizzate tutte, però non credo che le ricompreremo, da Action, poi, terminati i dischetti, Demacup Sensitive, non mi sono piaciuti per niente, perché, in primo luogo, non sono orlati, per cui si staldano, e in secondo luogo, anche quando tu li tocchi, proprio da asciutti, sono proprio morbidi, per cui, se tu hai una pelle delicata, e la mia è abbastanza, sia sensibile, che delicata, sono forse anche sinonimi, sì, non sono proprio morbidi, quindi io, vorrei qualcosa di più, carezzevole, e i Demacup, non mi sembrano carezzevoli, scusate, ma devo sistemare la roba bene, ok, andiamo avanti, allora, terminato questo cleansing gel, per il viso, del marchio Today, acquistato al Penny Market, devo dire che sia io, che il Simone, ci siamo trovati bene, penso che sia un prodotto, che può andare bene, per le pelli normali, per le pelli secche, e per le pelli acneiche, grasse, non riscontro, alcun difetto, se non che, le prime 3-4 volte, che l'ho utilizzato, mi ha, come posso spiegare bene, mi ha reso, facile, l'estirpazione, dei grani di miglio, però, andandoli ad enfatizzare, perché quando poi tu, ce l'hai lì lì, il grano di miglio, cosa fai? Lo spremi, lo togli, ok, e quindi il rossore c'è, quindi, mi ha facilitato questa, me l'ha facilitata sì, però poi, ero anche rossa, per cui, boh, non lo so, devo pensarci, costa poco, Simone si è trovato benissimo, ma gli uomini si trovano sempre bene con tutto, beati anche loro, mi viene a dire, shampoo che ha terminato proprio Simone, della Bionique, questo si chiama Defense Air Extra Delicato, ed è uno, compra una vocale, un olio shampoo, perché ho proprio il raschietto di secchezza, devo andare a bere, ok, è un olio shampoo, di solito Simone prende il Restivoil, io però li avevo comprato questo, perché l'ho trovato in offerta, costava meno del Restivoil, e mio marito, siccome è un santo, ormai lo sanno tutti, l'ha utilizzato, si è trovato bene, però mi ha fatto capire, senza dirlo direttamente, ma io ho capito, meglio il Restivoil, e quindi, siamo tornati a comprare il Restivoil, questo qui, mi è capitato di utilizzarlo, anche a me un paio di volte, devo dire che è veramente, 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 prendete nota, delicatissimo, cioè, mi viene da dire che andrebbe bene, proprio lui, Defense Air Extra Delicato, per i capelli, quasi del neonato, del bambino piccolo, oppure della persona adulta, che magari soffre di follicolite, di desquamazione, che ha bisogno di un prodotto, veramente, iper delicato, questo è perfetto, in farmacia, lo trovate a volte in promozione, a 4,50 euro, a volte 6, se capisce bene, dove va a parare il prezzo, tra i 4 e i 6 euro, non costa proprio poco, vi dirò la verità, quelle due volte che l'ho utilizzato, non mi ha fatto proprio schifo, l'ho trovato migliore del Restive Oil, eppure siamo dovuti tornare al Restive Oil, per cui io non lo utilizzerò, mentre invece lui, un paio di lavaggi li ho fatti, e devo dire che mi ha lavato bene, e ho proprio percepito una sensazione di delicatezza, ecco, scusate, ma non trovo il sinonimo, molto buono, per me, per mio marito, meglio il Restive Oil, hai visto? Siamo molto diversi, io e Simone, qualcuno dice, ma siete uguali, no, non siamo proprio uguali, absolutely not, sapone liquido del marchio, tutti i frutti, questo qui era buonissimo, perché era alla banana, e al ribes, ragazzi, avete presente, lavarvi le mani, poi odorarle, sanno di banana, eccezionale, mezzo litro di prodotto, non so il prezzo, perché è stato un regalo della mia amica Serena, ciao Serena, doppio saluto, forse ti saluterò anche altre volte, perché forse c'è altra roba, ci siamo trovati molto molto bene, questo qui lo tenevo in cucina, per cui tutte le volte che prima di cucinare, se non ho già lavato le mani in bagno, le lavavo lì in cucina, con questo qui alla banana, andiamo avanti, terminati questi cotton fioc del marchio Eleganza, acquistati da Action, ti sono piaciuti? Non mi sono piaciuti, perché secondo me c'è poco cotone sopra, e siccome il bastoncino è di legno, proprio per la sostenibilità, per evitare la plastica, il legno me lo sento poi dentro l'orecchio, meglio avere un po' più di cotone, grazie. E proseguiamo, sono andata in bagno a prendere i due prodotti che mi mancavano, andiamo avanti, ah sì, allora, purtroppo nel mese di aprile, Simone ha avuto un attimo di influenza, non è stato, non era informissima, per cui per due o tre mattine di seguito, gli ho fatto fare i patch, gli ho fatto fare, gli ho fatto mettere i patch per le occhiaie, che mi viene da dire, ma guardati te che sei piena di occhiaie, sì infatti, però io non c'ho la costanza e quindi mi tengo le occhiaie, invece lui che le occhiaie non le ha quasi mai, le aveva particolarmente segnate, devo dire che entrambi gli hanno fatto bene, questo è stato il regalo di Sephora per il mio compleanno, al cetriolo, efficace ma non perfetto, mentre invece questo qui di Balea, for men, che dentro c'è un fazzoletto per, insomma, evitare che si bagnasse tutto, ma tanto si è bagnato tutto lo stesso, perché ho le mani che hanno tre profumazioni diverse, vabbè, questo patch occhi, praticamente quando se l'è messo, quando gliel'ho messo a Simone, gliel'ho tolto dopo un'oretta, ho proprio visto la differenza, a saperlo me lo tenevo per me, che bastarda che sono, fantastica, no ovviamente sto scherzando, lui ne aveva bisogno, ha fatto bene a utilizzarlo, questo è con acido ialuronico, e estratto di aloe vera, se lo vendesse singolarmente, mi verrebbe voglia di comprarlo, se non fosse che poi io lo compro, lo mollo lì, non lo uso, perché avete visto che razza di occhiaie che tengo, ecco, su Simone invece hanno avuto proprio un effetto visibile, io ho proprio visto che quando le ha tolte era già diverso, con quello di Sephora anche, ma più questo di Balea, devo dire ragazzi che il calendario, ripeto, dell'avvento di Balea for Men, è stato eccezionale, ricordatevelo per ottobre e novembre, quando ce l'avranno in vendita, perché veramente top, andiamo avanti con dei detergenti intimi, per il momento ne trovo solo uno, ma mi sembra strano infatti, no ne trovo due, ecco, e sono entrambi uguali, si tratta del Fresh and Clean intimo, al timo e propoli, questi con antibatterico naturale, ci siamo trovati bene, devo dire senza infami e senza lode, vanno bene anche per un doppio lavaggio giornaliero, così come andrebbe fatto, ecco, ma non voglio specificare, va bene, lo trovo delicato, non dà alcun problema, capito? Profumazione irrisoria, ok? Sapete che io sono un po' fissata con le profumazioni, quindi anche se uso un detergente intimo, che profuma tanto, io sono subito inebriata, tipo quello che stiamo usando adesso, della Derigine, quel litrone che vi ho fatto vedere, quello ha un profumo ragazzi spaziale, cioè sembra che vi siete spruzzati il profumo, top! Nelle parti intime sarà sano? Non ho idea, però non mi dà alcun fastidio, non ci dà alcun fastidio. Terminati i due dentifrici, mi sembrano pochi, però per il momento trovo questi. Allora, questo qui è la papaya del marchio Eco Denta, non ci è piaciuto per niente, perché era una pasta dentifricia, dove la papaya era sostanzialmente inesistente, l'apporto diciamo di mentolato, anche quello quasi inesistente, non migliorativo dell'alito, della percezione, dell'odore, del sapore, del nostro cavo orale, per cui mi sembrano 5 euro, che uno può prendere, e destinarli a comprarsi magari un profumo, che ha più soddisfazione. Perfetto! Altro dentifricio invece a Zeta Complete, freschezza delicata, questo qui se non sbaglio ha anche l'aggiunta di colluttorio, no, no, non è lui, scusate, freschezza delicata, rinfresca l'alito, menta leggera, dentifricio sicuro sullo smalto, non ha l'aggiunta di colluttorio, dove l'ho letto? Perché ho inventato questa cagata? Non lo so. Sono 65 ml di prodotto, l'avevo pagato 99 centesimi dal DM, comprato a gennaio, non so se vi ricordate gli acquisti, ci siamo trovati benissimo, perché dopo la papaya avevamo proprio necessità di avere un dentifricio vero, un buon apporto mentolato a tutto questo popò di denti, lingua e guance, aliti eccetera, per cui ottimo, ve lo consiglio. Questo se non sbaglio, apriamolo un attimo, non è in gel, ma è proprio una pasta dentifricia anche lui, però verde, mentre invece quello alla papaya era una pasta, una banalissima pasta dentifrice a bianca, tristezza. Andiamo avanti, abbiamo terminato un'altra saponetta solida, e si tratta della Mande alla Mimosa Suprema. Questa me l'aveva mandata Teresa, ciao Teresa, era un panetto da 100-150 ml, tondeggiante, cioè era enorme, vi dirò, profumo molto buono, abbastanza, abbastanza fedele alla Mimosa come fiore in sé, anche se secondo me la Mimosa come fiore più pungente, questo è ancora, come dire, è ancora gentile, mentre invece la Mimosa vera punge un po' di più, però come sapone, boh, l'abbiamo usato perché era lì, ma non mi ha lasciato dei ricordi da dire, minchia, compratelo perché la profumazione sulla pelle, boh, boh, che dire, c'è di meglio, ok, andiamo avanti, Simone ha terminato un altro deodorante, ed è il Neutro Roberts Uomo, fresco, questo qui con essenza marina, c'è scritto che dura 48 ore, non lo so perché noi ce l'abbiamo tutti i giorni, però so che Simone si è trovato molto bene, non mi ha detto di sentire puzze di fastidi, irritazioni, non tenuta dell'odore sotto controllo, non mi ha detto niente, anzi mi ha detto se me lo vuoi, ricomprare, se vuoi ricomprarmelo, ricompramelo pure, per cui buono, mi sento di consigliarvelo, Asband promuove, quando boccia, va detto, altre salviette per lavare i pavimenti, queste qui sono sempre della V5, quindi sempre dell'Idol, sempre 16, pure fresh, quindi cambia solo la profumazione, uno dice ma se non ti sei trovata bene, perché le compri? Perché probabilmente non sono più andata da MD, c'ho sempre il vaschietto, non sono più andata da MD per prendere quelle al limone, sono dovuta aggrappare a queste qua del Lidl, sempre per fare la pulizia veloce, cioccolatini che devono andare nelle porcate alimentari, non so cosa ci facciano qui, terminati altri dischetti, perché due mesi sono tanti, questi qui erano della Selex, quindi comprati alla EO, si chiamano EGO, dischetti leva trucco, questi mi sono piaciuti di più, perché appunto, ripeto, sono più lisci, più morbidi, ma soprattutto sono orlati, per cui meglio, no? del Demacup, tra l'altro costano la metà di Demacup, quindi direi, approdate su questi Selex, e non vi sbagliate, terminato purtroppo, lo scrub al caffè del marchio The Beauty Depth, trovato da Action, quindi prodotto, non mi ricordo se era un prodotto cinese, no, prodotto europeo, scusate, comunque era uno scrub detergente, con proprio i pezzi dei chicchi di caffè, l'ho trovato molto efficace, molto profumato di caffè, ma non nella sua accezione gourmand, ma proprio quel caffè aromatico, molto molto buono, molto efficace sulla pelle, forse, se non sbaglio, rilasciava anche un pelino di idratante, io preferisco uno scrub più aggressivo, che non ti rilascia nessun tipo di olietto, nessuna forma di idratante dopo, io voglio le cose aggressive, questo era un po' più gentile, ecco, un po' più dolce, non è che ti graffiava la schiena, quello che vorrei io, questo risvolto, potevamo anche farne a meno, comunque, 250 ml di scrub, molto buono, io mi sono trovata bene, per cui tornando da action, potrei pensare di riprenderlo, adesso ne ho comprato un altro, che però non è granché, per cui vi rimando al prossimo video flop, perché appunto non mi sto trovando molto bene, allora, altro bagnoschiuma, questo ho terminato da me medesima, del marchio Energy of Vitamines, quindi un marchio ucraino, 230 ml di crema doccia, appunto preso su make-up.it, pagato 3-4 euro, non ricordo bene, profumazione mango panna cotta, allora, si presentava come una crema detergente perlescente, quindi, no colori arancione, quindi proprio color perla, avete presente lo smalto bianco perlato che amiamo? ecco, la panna cotta, assente, desaparecida, il mango, sì, abbastanza presente, però non dà invasione del bagno, non dà lasciarvi la pelle del corpo profumata, per cui, un buon bagnoschiuma, ma sinceramente, tornassi indietro, non lo ricomprerei. Mentre mi ero trovata molto bene, sempre del marchio Energy of Vitamines, con l'oro scrub, che era lo scrub al mojito, usato lo scorso anno, ottimo prodotto, il bagnoschiuma, buono, ma non sa di panna cotta, primo, sa solo di mango, e in secondo luogo, non mi ha colpito, non aveva caratteristiche da farmi dire, questo lo devo consigliare, perché io, anche quando sono sola in casa, e provo un prodotto, io penso subito, adesso lo dico alle mie, alle mie, alle persone che, che seguono i miei video, devo dirlo, che questo è veramente buono, o questo è veramente, pessimo, eccetera, eccetera, siamo messi così. Poi, terminato questo colluttorio, anche questo mi ha fatto fare un sacco di risate, si chiama Curacept Daycare, e, non lo vedete, perché è un po' lontanuccio, ma c'è il disegno di un arancio, c'è scritto, anti-alitosi, no alcohol, aiuta a proteggere, il cavo orale, dai batteri, e dai virus della placca, che poi la placca ai virus, questa mi è nuova, vabbè, comunque, mi ha fatto molto ridere, perché c'era scritto, in farmacia, farmacia online, colluttorio agli agrumi, ma dove, ma quando mai, era un colluttorio arancione, ok, ma gli agrumi, mai pervenuti, mai, 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 ma non sapeva neanche di menta, proprio un, un sapore che non vi so neanche, narrare, potrebbe ricordare, vagamente, lontanamente, quello lì, allo zenzero di equilibra, se non fosse quello, allo zenzero di equilibra, a me era piaciuto di più, questo proprio l'ho provato, ho detto a Simone, se non ti dispiace, ciao, te lo regalo, e io sono approdata, al mio veleda, classico, meraviglioso, alla ratania, di cui vi ho già parlato abbondantemente, questo proprio, gli agrumi, dove, quali, magari, zero agrumi, poi andiamo avanti, terminate queste tre maxi spugne di Unes, abrasive, azione forte, Unes è un supermercato che c'è qui a Torino, non so se c'è anche nelle vostre città, fatemelo sapere, ci siamo trovati bene, devo dire la verità, mentre invece, con la spugna che sto utilizzando adesso, per lavare i piatti, non mi sto trovando assolutamente bene, inserirò anche lei, nei video flop, qualcuno dice, sì, ma i prodotti casalinghi, nel video flop, secondo me ci stanno, per cui, io lo inserisco, poi mi fate sapere voi, andiamo avanti, c'ho ancora diversi prodotti, ok, allora, terminato questo, scusatemi, questo soldente leva smalto, del marchio Ampli, anche questo acquistato su Makeup.it, si trattava proprio di un liquido, soldente, senza acetone, per rimuovere lo smalto, devo dire, molto molto efficace, molto economico, perché devo averlo pagato, 2 euro, se non meno, ed erano 150 ml, di prodotto, mi sono trovata bene, devo dire, peccato, quindi che è finito, tra l'altro, aveva, la famosissima pompetta, che è più comoda, rispetto al, eh, tu schiacci qui, e ti viene fuori, la quantità giusta, di prodotto, buono, mi sono trovata bene, andiamo avanti, non voglio macchiare, il muro, poi ho terminato, aspetta che vado a vedere, allora, ho terminato, questo spray, igienizzante, della Mande, che anche questo, mi ha fatto ridere, perché pure lui, diceva, profumo di agrumi, profumo di agrumi, no, era un profumo di, spray, igienizzante, con una punta, molto lontana, di acidità, tipica, degli agrumi, però, sinceramente, non, non l'ho trovato, un prodotto speciale, per cui, non mi sento di consigliarvelo, tra l'altro, costa sui 4-5 euro, e sono 50 ml, di prodotto, sembra anche un profumo, visto così, l'ho portato dietro, l'ho utilizzato, pratico, ok, ma, non mi ha fatto impazzire, sono andata a bere, perché, avevo un raschietto, di quelli importanti, veramente, poi, per quanto riguarda, il make up, ho terminato, la mia manga brow, quindi, la matita per sopracciglia, di neve cosmetics, che aveva la doppia punta, un po' più scuro, un po' più chiaro, mi sono trovata, ultra bene, per cui, se siete alla ricerca, di una buona, matita per le sopracciglia, manga brow, di neve cosmetics, costa 7 euro, se non sbaglio, però, è ottima, e dura un casino, ok, non si spunta mai, cioè, veramente, un buon acquisto, andiamo avanti, ho terminato, un altro scrub, questo qui, della Dermolab, esfoliante corpo, formato da 75 ml, perché, è un formato, di cui è vietata la vendita, me l'hanno dato in omaggio, quando, lo scorso anno, avevo preso sempre, di Dermolab, Dermolab, la crema anticellulite, che sono stata bravissima, perché non l'ho mai usata, l'ho usata 4 volte, ma sono veramente, di una pigrizia inaudita, però, visto che, con la Imim, ci ho dato dentro, io, ci darò dentro, anche con quella lì, della Dermolab, alla cellulite, per la cellulite, anche se, la cellulite, non va via, questo bisogna anche dirlo, è sempre là, c'è proprio dei bei bucazzi, però, chi se ne frega, parliamo invece, di questo esfoliante, mi sono trovata, abbastanza bene, non è il mio esfoliante, della vita, per cui, ve lo consiglio, non so che prezzo ha, quindi non riesco, a rapportare, le sue prestazioni, al prezzo, non saprei dirvi, non conosco il prezzo, però, so che mi sono trovata, bene, forse ho preferito, quello lì, al caffè, o forse ho preferito, direttamente, quello del, quello al mojito, di cui vi parlavo, prima, quello lì, ucraino, ecco, forse quello è il mio, scrub preferito, quelli, quegli scrub che, come dire, fanno una vera, azione, esfoliante, ma non vi rilasciano, degli olietti, delle creme idratanti, per andare a lenire, cioè, direttamente, loro, portano via, quello che devono portare via, io ho queste preferenze, non lo so, strano, forse, terminate queste salviette, detergenti, della breeze, che tenevo qui nella scrivania, tutte le volte che mi truccavo, mi pulivo le manazze, con queste qua, della breeze, anche questo è un formato, di cui è vietata la vendita, me l'hanno date in omaggio, i per sop, quando mi sono comprata, 800 mila, deodoranti, breeze, sempre il solito, breeze, squeeze, che ancora non ho capito, insieme alla perlie, come mai l'ammirato, non mi fa sponsorizzare il breeze, perché sono piuttosto brava, buone, mi sono trovata bene, andiamo avanti, poi, quando siamo stati, sul lago maggiore, quindi poco prima di Pasqua, io e Simone, abbiamo terminato, un solo bagno schiuma, gli altri sono rimasti a metà, ne abbiamo usati diversi, ma ne abbiamo terminato uno, e si tratta di un 30 ml, della Nuxe, ragazzi, questo qui ha il profumo prodigio, quindi la stessa profumazione, dell'olio e del profumo, se siete amanti di questa profumazione, voi amerete, adorerete, questo bagno schiuma, perché innanzitutto, è una crema doccia dorata, quindi già il colore, ti mette subito di buon umore, è leggermente densa, sotto la doccia, proprio si scioglie, diventa un tutt'uno con il corpo, la schiuma è ultra profumata, vi dirò che, la profumazione, è anche un po' sensualeggiante, per cui, vi devo dire altro, cioè questo è proprio un prodotto, ve lo dico chiaramente, tanto per, perché, mi sembra anche giusto, essere esplicita, con cui potete fare la doccia insieme a vostro marito, andiamo avanti, poi, ho terminato purtroppo, la crema, questa è stata brutta, questa qui, cioè mi è spiaciuto terminarla, ho terminato purtroppo, la crema a mani di Chloe, che mi aveva regalato Simone, per Pasqua, no, per, festa della donna, no, non mi ricordo, San Valentino, non mi ricordo, so che me l'ha regalata Simone, non mi ricordo per quale evento, erano 75 ml di prodotto, e ragazzi, una crema a mani, meravigliosa, al di là del profumo, che è proprio Chloe, quindi è proprio lui, ma si assorbiva subito, come dire, ammorbidente, ma no ammorbidente, settificante, quindi dopo che la mettevate, la mattina dopo avevate proprio la seta nelle mani, fa un po' azione ultra glicerinica, tipo il sapone disinfettante del Cry, veramente buona, settificante, leggermente ammorbidente, non particolarmente riparativa, per cui se fate un lavoro pesante, avete le mani piene di tagli e ragadi, non è la crema a mani per voi, è una crema a mani che fa più da prevenzione, e che fa anche da coccola serale, perché è molto profumata, ripeto, è settificante, è piacevole, cioè è proprio una vera coccola, non costa poco, perché costa più di 15 euro, però se avete un'amica, a cui piacciono, a cui piace Chloe, a cui piacciono i profumi, non volete spendere troppo, non avete un budget troppo alto, per il deodorante, il bagnoschiuma, il profumo, potete buttarvi sulla crema a mani, perché è un regalo che veramente, madonna che buona che è, mamma mia, oggi ho il fatto iper sollecitato, buonissima, è un regalo che non puoi non apprezzare, secondo me, perché la crema a mani è sempre utile, sempre, a meno che non hai le mani già tu di plastica, ma non credo, poi ho terminato questo piccolo campioncino di Vichy Norma Derm, detergente per il viso adatto alle pelli acneiche, ve l'avevo già spiegato una volta, è un ottimo detergente, secondo me, per persone che hanno l'acne, che hanno i brufoletti, da poco tempo, quindi secondo me, è il deodorante tipico dell'adolescente, che si sta sviluppando, quindi in età puberale, e quindi ha qualche squilibrio ormonale, qui l'età puberale l'abbiamo passata da un pezzo, oppure gli squilibri ormonali sempre ci stanno, per me è un ottimo prodotto, però la mia pelle, se io devo basarmi sui detergenti per le pelli acneiche, ha bisogno di un peeling, la mia pelle, per cui sono tornata al mio mitico boccione di micro peeling della Roche-Posay, l'ho aperto oggi, quindi vai, lo abbiamo inaugurato, prima di aprire quello ho detto, uso questo qui, che così lo finisco, questi erano 15 ml, quindi mi è durato una settimana giusta, di lavaggio viso mattiniero, 15 giorni, mi sono trovata, 15 giorni, ma che cacchio dico, una settimana scusatemi, mi sono trovata bene, però necessito di qualcosa di più forte, per cui consigliato a chi ha figli adolescenti, che hanno dei brufoletti da correggere, buono, è un buon prodotto, andiamo avanti, la fiera dei campioncini, no, non ancora, aspetta che abbiamo ancora un paio di cose, abbiamo il burro cacao della Reese's, i Reese's sono dei dolcetti americani, ripieni di burro d'arachidi, e rivestiti di cioccolato al latte, sono buonissimi, ci hanno fatto il burro cacao, lo trovate da Action, e lo pagate, non pogate, è un'altra cosa, e lo pagate 99 centesimi, il profumo è straordinario, che ve lo dico a fa, ma veramente sa di burro d'arachidi fortissimo, terminato completamente, lo vedete al fondo, perché non esce proprio più, lo usavo tutti i giorni, un paio di volte al giorno, e nonostante sia un prodotto cinese, e qualcuno, c'è ancora qualcuno che, magari parte un po' prevenuto, coi prodotti cinesi, ma non è più il mio caso, mi sono trovata veramente molto bene, mi ammorbidiva davvero le labbra, era molto presente, nel senso che se me lo mettevo alla sera, mezzanotte, mi svegliavo alle 8 al mattino, ce l'avevo ancora, però non era pesante, perché ci sono anche dei burri cacao, si dice burri cacao, che li mettete, sono talmente fondenti, che sono pesanti, vi fanno venire le linee bianche, invece questo no, molto suave, però presente, mi è piaciuto un sacco, l'ho fatto usare anche a Simone, anche a lui è piaciuto, quanti grammi erano? 4 grammi, molto buono, era arancione, ma sinceramente, io facendo anche 45 passate, non mi sono mai vista le labbra arancioni, tra l'altro ho trovato il rossetto arancione, vi ricordate che lo cercavo? Mi è andata di culo, perché la settimana scorsa siamo andati a fare un giro da Douglas, c'era una matita arancione per labbra, ho scritto, promozione 3 euro, vado alla cassa con la tessera, pagata un euro, che culo, sono entrata da Douglas, ho speso un euro per la matita labbra arancione, sono le cose che capitano una volta nella vita, ok, adesso andiamo con i campioncini, ma non è poi ancora finita, ho altri prodotti, allora, ragazzi, erbolario, assenzio, un profumo che io amo, ve l'ho già descritto, credo un milione di volte, un profumo erbaceo, piantifero, dove si sente molto bene l'assenzio, l'artemisia, e molti altri ingredienti di cui adesso non mi viene in mente, però sostanzialmente le note principali sono l'assenzio e le tre artemisie, è un profumo buonissimo, polveroso, piantifero, erbaceo, non ho mai trovato un profumo di questo genere in giro, motivo per cui me lo sono ricomprato, però non vi anticipo niente, perché devo farvi un video acquisti di profumi, siccome ne ho terminati tantissimi e devo registrarci il video, ho deciso di rimpinguare le scorte, per cui ho fatto un bello shopping, un profumato, tra cui c'è anche lui, io amo l'assenzio di erbolario, è entrato nella mia top 5 proprio sgomitando, poi ho terminato un profumino così da 1 ml cedro di calabria di erbolario, ce l'avevo ancora dallo scorso anno, lo trovo stupendo e meraviglioso, l'anno scorso mi ha regalato grande gioia, si tratta di limone e saccarosio, profumazione spaziale buonissimo, consigliato, spero che non l'abbiano tolto dalla gamma, poi sempre per quanto riguarda erbolario, ho usato questa crema scrub di Altea, della linea Altea, non male, devo dire non male, se non sbaglio l'ho usata sul viso, perché ho detto crema scrub, non vorrei che fosse né troppo aggressiva, né troppo puntuosa, nessuno delle due, mi sono trovata bene, crema scrub Altea, buona, poi, andiamo avanti, ho fatto un altro gommage per il viso, ed è questo qui sempre di erbolario, però con che cos'è? Bois de Panama, quindi legno di Panama, e olio di crusca di riso, mi sono trovata bene anche con lui, però forse tra i due meglio il crema scrub di Altea, poi ho provato il deocrema di assenzio, anche se io ce l'avevo già, ma non sono una fan dei deodoranti in crema, non sono una fan dei deodoranti roll on, stick e crema, oppure liquidi, anzi liquidi sì, se escludiamo il breeze, però pochi altri, io sono o spray o appunto squeeze, crema non mi piace, per cui cosa ho fatto? L'ho utilizzato per i piedi, e avevo i piedi assenziati, buonissimo, meraviglioso, poi terminato questo doccia shampoo delicato al riso e al lino, del marchio Green Natural, così in campioncino, è proprio uno di quei doccia shampoo eco bio, che tu li usi, e il profumo è quasi inesistente, perché loro tolgono giustamente gli allergeni, l'effetto sulla pelle è inesistente, nel senso che ti lavano, ma non c'è morbidezza, cioè non ti rimane impresso, ecco, per cui non mi è rimasto impresso, doccia shampoo, lino e riso, poi, ah, ho provato questa crema rassodante, in campioncino del marchio, Maharishi Ayurveda, un marchio indiano, vorrei pensare, pensare, erano 4 ml, 4 ml sulle mie cosciazze piene, ovviamente, ve l'ho già detto, di cellulite, boh, cioè, che dire, non ho visto nessun miracolo, per cui, rimango ancora scettica, poi, ho terminato questa crema emolliente, idratante, rinfrescante, della Elan, linea bimbi, allora ragazzi, voi dovete sapere, che a me, della Elan, come marchio, mi piacciono tantissimo, la linea bimbi, di cui ho già provato, diverse referenze, tra cui il balsamo per i capelli, il balsamo labbra, il sapone liquido, l'intimo, ottimi, e adesso ho provato anche, la crema emolliente, l'ho utilizzata sul viso, perché non mi ricordo più, quando è stato, forse proprio i primi di aprile, avevo un po' il viso secco, qui, in questa zona, perché io dico sempre che è una pelle grassa, ma in realtà ce l'ho mista, perché qui spesso è secca, quindi l'ho utilizzato sul viso, non mi ha fatto uscire bubbo nazi, non è mai uscito fuori l'unto, per cui buona, si chiama crema emolliente, idratante, rinfrescante, viso e corpo per bimbi, dicevo di Elan, mi piace molto la linea bimbi, e mi piace molto la linea vetiver e rum, voglio provare qualcosa anche della linea up e lab, vi farò poi sapere in futuro, andiamo avanti, utilizzato il bagnoschiuma di verbena, di erbolario, buono, mi sono trovata bene, mi potrebbe piacere, come bagnoschiuma da acquistare, o ricevere il regalo, mi potrebbe piacere, perché come note di apertura, io ravviso molta somiglianza con lui, io l'apertura di verbena la trovo molto somigliante al cedro di calabria, per cui se mi dicono scegli tra i due, scelgo subito il cedro di calabria, la verbena mi piace un pochino meno, l'evoluzione che ha mi piace meno, per cui non mi sento di consigliarvelo, però poi va provato tutto, dovete provare voi le cose, cioè non dovete fidarvi delle mie opinioni, siamo qui per farci compagnia, giusto? Ok, allora io so che nell'ultimo video avete visto questo bagnoschiuma per intero, ma come vi ho detto all'inizio di questo video qui, quei video li ho registrati tempo fa, infatti pioveva, c'avevo la felpa, questo è il primo video che registro dopo tutto quello che, tutto il pandemonio che era successo dopo l'ultimo video riflessione, ecco questo è il primo video che registro, quindi se mi vedete anche un po' provate, perché insomma ne sono successe delle belle, quindi cosa vi sto a presentare? Vi sto a presentare questo bagnoschiuma di Bath & Body Works, Vanilla Bean Noel, doccia schiuma formulato in gel, un gel verde, sembra quasi il detersivo dei piatti svelto, il suo verde, e aveva tre note principali, la nota di cookie, quindi di biscotto, poi aveva la nota di bacca di vaniglia, e poi la nota di panna montata, tra queste tre note la nota assolutamente prorompente, e preponderante era quella di panna montata, inizialmente ero un po' scettica, credevo non mi piacesse, ma in realtà con l'utilizzo mi sono resa conto che era un prodotto eccezionale, non solo per il propagarsi della profumazione, ma proprio anche addosso sul corpo, rimaneva abbastanza bene il profumo, non mi ha mai irritato, lo trovavo davvero davvero piacevole, è una vera coccola, quando lavarsi siamo tutti obbligati a lavarsi, a lavarci, però quando lavarsi diventa veramente un doppio piacere, a me è sempre piaciuto lavarmi, non è vero, non è vero, ho iniziato a piacermi a lavare più o meno nell'età di 14-15 anni, ecco, ho iniziato ad amare, a lavarmi, e devo dire che con un prodotto di questo genere, diventa ancora più un piacere, veramente eccezionale, erano 295 ml di prodotto, molto carina la boccetta, questo me l'ha mandato Serena, terza citazione nel video, ciao Serena, poverina, gli fischieranno le orecchie il giorno in cui ho registrato questo video, ragazzi, la profumazione di panna montata, è un qualcosa di paradisiaco, veramente, e cosa dirvi, se amate i profumi gourmand, ma soprattutto la nota della panna, questo è un prodotto che dovete avere, Bat & Body Works Vanilla Bean Noel, buonissimo, ultimissimi due prodotti, andiamo con due acque micellari, sì, la prima è questa qui di Garnier, la conoscete tutti, questa qui con tappo rosa, sono 400 ml di prodotto, con che cos'è? Non so con che cosa sia, è il tutto in uno per pelli sensibili, devo dire che è un'acqua micellare, a mio avviso favolosa, porta via tutto con una o due passate, veramente un prodotto da 10, forse lo dicono tutti qui su YouTube, a me è difficile che, come dire, che io riesca a farmi influenzare, devo provare io e poi vedere, ed è già la seconda o terza volta che la ricompro, perché con questa veramente viene via tutto, tutto proprio, anche se avete l'ombretto in glitter, il mascara waterproof, è veramente efficace, è funzionale, so che ne esistono altre, col tappo giallo, tappo verde, mai provate, e non so se usarmi di prenderle, perché poi magari mi tento, e mi devo assorbire 400 ml di prodotto, è lunga, questa mi è durata un casino, buonissima, buonissima, non so quanto costi, 3 euro, veramente buona, veramente 10, non ho altro da dire, metto, inserisco in questo video, ed è l'ultimo prodotto, un'acqua micellare di Yves Rocher, che vedete, quasi finita, la finirò credo stasera, e quindi non mi va di metterla nel video, tra due mesi, la metto in questo, si chiama Pur Blue, ed è appunto sempre un'acqua micellare, quindi uno struccante delicato, liquido, non abbiamo parti oleose, né in quello lì di Garnier, né in questo, perché io non posso usare i bifasici, perché mi fanno venire un prurito oculare, da straffarmi proprio le pupille, ecco, quindi soltanto acque micellare liquide, allora, io so che tante persone amano il marchio Yves Rocher, tanti, tanti, per cui le mie recensioni contano un cazzo, va benissimo così, a me non c'è quasi nessun prodotto di Yves Rocher, che mi ha fatto dire, cioè questo è fantastico, lo ricompro, mi piace, sono tutti prodotti che per me, ripeto, mia opinione, tiepidi, e tra cui anche quest'acqua micellare, anzi, questa non è tiepida, l'avrei anche inserita nei flop, ma ormai è quasi terminata, perché trovo che con questa io devo sfregare, mentre invece io con la Garnier appoggio e porto via, con questa se appoggio e porto via, non porta via tutto, devo fare tre passate, non mi è piaciuta per niente, l'ho comprata l'anno scorso a Padova, sono 100 ml di prodotto, l'ho presa a Padova, perché l'anno scorso in questo periodo abbiamo fatto una mini vacanza artistica a Padova, e non avevo dimenticato lo struccante, genio, cioè un beauty case grande come me, lo struccante non ce l'avevo, per cui l'ho comprato lì, non l'ho pagato neanche poco, credo di averlo pagato 6 euro, 6-7 euro, per le sue performance, è un prodotto che mi fa cagare, quindi lo trovo sopravvalutato, caro, costoso, non mi piace, se voi lo utilizzate e vi piace, ci mancherebbe, la gente io ho notato, che ha proprio voglia, questo è da approfondire in un video riflessione, di litigare, c'è questa voglia di prendersi a pugni, litigare, ma stiamo tranquilli, cioè calma, calma, relax, veramente, mamma mia, se usate questo prodotto e vi piace, ok, si chiamano opinioni perché sono differenti, pensa se tutti quanti pensassimo le stesse cose, che rottura di coglioni infinita, dai, che palle, vabbè, ma ne parliamo poi in un video riflessione, allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho tenuto compagnia, e vi dico, c'ho un raschietto, più degli altri giorni, non so come mai, eppure io sono una persona che nella vita parla, parlo un casino, parlo fin troppo, ecco, forse, e non mi è venuto il raschietto, c'ho un raschietto, che mi devo bere 6 litri d'acqua, adesso ho finito il video, spero di avervi tenuto compagnia, vi ricordo la crema Imim, che è la prima che vi ho fatto vedere, dove l'ho messa, crema per collo e décolleté, che io ho usato come crema per il corpo, se vi interessa, la trovate su Amazon, il link è nell'infobox, con il codice LUI, avete poi lo sconto del 20%, se vi fidate della mia opinione, bene, se no, dovete provare le cose voi, funziona sempre così nella vita, o ci si fida o si prova, secondo me è meglio provare, con, meglio prendersi le proprie responsabilità, non demandarle agli altri, dire io voglio provare il tal prodotto, punto, oppure no, perfetto, un abbraccio, un bacio, ci vediamo nei commenti, oi, 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 oi,